Maria, regina della pace, porta il tuo amore in ogni cuore. Dari cose a quanto è bene il Signore, è santo ed è il suo nome. Maria, regina della pace, porta il tuo amore in ogni cuore. Maria, regina della pace, porta il tuo amore. Cari figli, oggi voglio rivolgervi questo invito. Pregate, pregate e pregate, nella preghiera sperimenterete una gioia grandissima e troverete la soluzione per ogni situazione difficile. Cofriamo questa felicità per il progetto come in cer, așa și pe pământ. Daci oggi il nostro pane quotidiano che rimette in noi i nostri debiti come noi ne rimetteam ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma ne vera ci dal male. Amen. Bucurate, Maria cea plină de har, Domnul este cu tine. Bucurate, Maria cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântata ești tu intre femei. Binecuvântata este rodul trupului tău, Isus. Bucurate, Maria cea plină. Grazie a tutti. 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 a tutti. Alleluia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.